Buongiorno, sono Ramona Cardillo, sono una ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padua e sono anche una psicoterapeuta. Nella mia attività di ricerca, ma anche nell'attività clinica, mi occupo di difficoltà emotive e socio-relazionali in bambini e ragazzi e nello specifico in bambini e ragazzi che presentano delle vulnerabilità in queste aree, ad esempio dei disturbi e nello sviluppo. E' proprio per questa ragione che nel corso di questi incontri vi presenteremo una serie di approfondimenti tematici proprio su questo tema.